Nell'ambito delle iniziative dell'assessorato alle attività educative e culturali e in concomitanza con i festeggiamenti di Santa Febbronia, organizzato dall'Amedit Gli Amici del Mediterraneo, si è tenuto presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale la conferenza Insediamenti Umani in Località Coste di Santa Febbronia. Nascerà il Parco archeologico. Dopo i saluti del Sinnaco Fagone ha introdotto i lavori il presidente dell'Amedit Giuseppe Maggiore, che ha anticipato quanto in maniera più approfondita e stato illustrato dalla dottoressa Maniscalco, dirigente della soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania. Prosegue con determinazione l'impegno da parte dell'Amedit. Qual era il messaggio che volevate lanciare attraverso questa conferenza? Il messaggio è semplice. Già nella scorsa conferenza, che aveva come oggetto l'area archeologica di Rocchicella, abbiamo cercato di illuminare un aspetto di quelle che sono le radici storico-culturale di Palagonia. Adesso, in maniera ancora più da vicino, abbiamo posto i riflettori su un altro sito importantissimo, che è quello delle coste di Santa Febbronia. Importantissimo perché è attraversato fin dall'antichità, fin dall'età del bronzo antico, da insediamenti umani, da varie culture e civiltà che hanno lasciato ognuno una propria traccia. Ovviamente l'obiettivo di questo incontro, tenuto dalla dottoressa Laura Maniscalco, era quello di, prendendo coscienza dell'importanza storico-artistica che il sito delle coste ha, di incentivare ulteriormente i passi verso l'istituzione del parco archeologico delle coste di Santa Febbronia. Ci vuole rappresentare Volano per un nuovo rilancio di Palagonia. Questo è l'augurio che ci facciamo, l'appello che rivolgiamo all'amministrazione comunale. Proprio mentre sono in corso i lavori di riqualificazione di quest'area, infatti è stato fatto già in parte un lavoro di ripristino, che ci auguriamo venga il più presto portato a termine, secondo quanto stabilito dalla sovrintendenza ai beni culturali di Catania. Ci sono i presupposti affinché Zona Costa diventi un parco archeologico? I presupposti c'erano, ci sono e ci saranno sempre, visto e considerato che il territorio è comunque già proprietà del comune, quindi essendo demanio comunale le competenze burocratiche spettano soltanto al comune. Fra l'altro esiste già un progetto di parco archeologico che ha radici antiche, perché già nel 1990, anno in cui è stato fatto il primo intervento nel sito preistorico delle coste di Santa Febbronia, si era già portata avanti un'iniziativa del genere. Purtroppo sono passati quasi 15 anni, non si è mosso nulla, perché ovviamente non c'è stata nessuna volontà politica affinché questo parco nascesse. Adesso si sta muovendo qualcosa? Questa conferenza di stasera aveva come scopo anche quello di stimolare almeno i componenti della Giunta o del Consiglio a promuovere qualche iniziativa, però purtroppo abbiamo visto una scarsa presenza, quindi non so se i presupposti adesso potranno esserci nuovamente.